caro signore io vengo a te nel nome di gesù e in questo istante tutto il mio cuore offro a te va bene ci sediamo e parliamo un po di amore non fa male parlare d'amore anzi allora chi ci vuole dire qualcosa laura allora i frutti dello spirito cominciamo da questo va bene io ho preso prima due passi dalla bibbia il primo dalla lettera ai romani dal capitolo 12 il versetto 9 che inizia così la carità non abbia finzioni amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno gareggiate nello stimarvi a vicenda rallegratevi con quelli che sono nella gioia piangete con quelli che sono nel pianto ampiate i midesimi sentimenti gli uni verso gli altri non aspirate a cose troppo alte piegatevi invece a quelle umili non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi non rendete a nessuno male per male non lasciatevi vincere dal male ma vinci con il bene e il male allora tenendo aperto questo passo commentiamolo un poco va bene vedendo frase per frase allora la carità non abbia finzioni abbiamo già detto un po l'altra volta in la persona un po egoista quella che non si nasconde quella che si nasco e quella che si nasconde quella che a se stessa procura tutti gli abbi e tutti gli alibi possibili per i propri comportamenti insomma diventa poi una persona non non vera nelle proprie azioni perché non riesce nemmeno più a riconoscere quali sono poi le motivazioni che lo spingono ad agire in un determinato modo poi continua amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno e gareggiate nello stimarvi a vicenda questo insomma è il l'effetto dell'amore verso gli altri questo simarsi a vicenda fare a gara nel considerare gli altri più di te stesso e è un comportamento esterno ma nasce dal di dentro se uno ha già delle dentro di sé si è purificato di ogni intenzione insomma che non sia pura anche il suo comportamento sarà poi conforme a quello che proverà dentro quindi stimare l'altro più di noi è espressione di amore altrimenti ci sentiamo noi migliori degli altri però tu magari tieni avanti l'ha aperto la parola ma se c'è qualcuno che vuole intervenire su uno qualcosa può intervenire rallegratevi con quelli che sono nella gioia piangere piangete con quelli che sono nel pianto questo è un altro c'è un altro sintomo dell'amore il fatto di mediesimarsi così tanto nell'altra persona che se la persona l'altra persona gioisci noi tu gioisci di cuore se invece l'altra persona nella tribolazione nel pianto nel dispiacere tutti i mediesi mentalmente tanto in quell'altra persona che diventa tuo dolore ma riesce anche poi a giustificare determinati comportamenti che magari a primo acchitto uno potrebbe rimanere offeso se però tu vai a vedere le motivazioni dell'altro ecco non ti fermi all'apparenza a quello che viene fatto a te ma vai a vedere che cosa può aver spinto quella persona ad agire in un determinato modo tu riesci a sentire come quella persona e riesce a giustificarle a perdonarla il frutto dell'amore poi il perdono insomma l'espressione più grande qualcuno vuole intervenire vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto laura se no continua laura abbiate i medesimi sentimenti gli universo gli altri questo è un altro corollario dell'amore il fatto che comunque alla fine soprattutto se il signore presente in una comunità in una famiglia dove c'è unione si hanno i medesimi sentimenti il medesimo pensare il medesimo parlare non c'è bisogno di il contrario che cosa potrebbe essere disordine caosio prevaricazione divisione non aspirate a cose troppo alte piegatevi invece a quelle umili ecco commentiamo questo vogliamo fare tutti da maestri però poi non ci sforziamo neanche di leggere un po la bibbia ecco questo è un tasto in cui voglio mettere il dito continua non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi non rendete a nessuno male per male non lasciatevi vincere dal male ma vinci con il bene e il male penso che l'esempio più grande ce l'abbia dato gesù dice gesù ha vinto il mondo con il con il suo amore eppure un mondo che lo ha lo ha messo a morte lo ha insultato lo ha spogliato lo ha ha usato ogni tipo di violenza nei suoi confronti eppure gesù ha vinto il mondo cioè il mondo poteva distruggerlo se lui non avesse perdonato se lui non avesse amato io me lo so chiesta se gesù non avesse perdonato sulla croce che cosa sarebbe accaduto a lui ma anche a noi lui sarebbe rimasto sempre dio quindi a lui non sarebbe successo nulla noi non saremmo stati salvati saremmo stati saremmo perduti lui ha vinto ha vinto se gesù si se gesù avesse fallito come uomo sulla terra il suo fallimento sarebbe stato per quanto riguarda l'umanità ma sarebbe stato sempre dio e quindi saremmo stati noi a essere sconfitti e a non essere salvati quindi gesù ce la doveva fare perché noi ce la dobbiamo fare adesso vediamo che cos'è l'amore che chi lo sa dire una definizione dell'amore che cos'è l'amore l'amore un campanello che suona anna maria l'amore non vi è un amore più grande quelle di amare i fratelli e le persone che bisognose amarsi gli uni gli altri questo è l'amore di dio sì ma come si presenta questo amare i fratelli e amarsi gli altri con come si presenta con la con la bontà con ci intanto mentre la sorella parla noi riflettiamo tutti quanti se abbiamo un pensiero una riflessione la facciamo sì amare il fratello amarsi gli uni gli altri e amare il prossimo il prossimo però come si presenta quest'amore che cosa potrebbe essere l'amore una definizione cerco una definizione è una cosa che viene dal cuore proprio ma è una sensazione oppure un impegno no è una sensazione che sente proprio da dentro sentiamo non è una sensazione è un impegno anche no è un impegno soltanto non è una sensazione la sensazione non è l'amore uno sente da dentro allora se gesù dice amate i vostri mariti avanti amate i vostri nemici che significa che è un comandamento e se è un comandamento se ti dice di farlo significa che non è più una sensazione ma è un impegno che noi dobbiamo prendere nei confronti del prossimo dei nemici e così via soprattutto e non è neanche un pensiero gentile l'amore non è un pensiero gentile ma è tutt'altra cosa vediamo diamogli un'altra definizione ma che cos'è l'amore abbiamo capito che viene da dio ma come si manifesta cioè praticamente come bisogna comportarsi per dire io so amare e perché gli altri capiscono che io so amare posso cominciare con il concetto e poi aprire il discorso allora l'amore è uguale a generosità e impegno volontario sentimentale razionale nel voler bene gli altri dio parla di amore dell'amore detto nella parola di dio stesso agapao cioè amore vero nell'amore vero comunque è incluso anche l'amore fraterno ovvero la fratellanza la fratellanza che comunione fraterna comunione fraterna benevola il signore infatti ci esorta ad avere comunione fraterna un'unione spirituale che non va fraintesa con quella che diciamo così per dire la comunella o zizzania o critica che non ha nulla che vedere insomma che è costituita dalla è costituita dalla spiritualità che vitale per la crescita di ogni persona allora paola diceva delle cose all'amore l'amore agapao in greco amore significa agapao che significa un amore forte un amore compassionevole la compassione non è nient'altro che l'amore senza doppi fini e quell'amore che mostra in poche parole Gesù e quell'amore che viene illustrata nella bibbia nella parabola del buon samaritano ricordate la parabola del buon samaritano dove buon samaritano si interessa di questa persona che è stata pestata lo porta in una in una in una cantina e all'oste da dei soldi gli dice di di accudire questa persona e eventualmente al suo ritorno se c'è bisogno ancora di soldi ecco questo è un amore un amore eh senza doppi fini un amore eh senza nessun interesse questo è l'amore agapao di cui parlava paola ma ancora non abbiamo definito bene che cos'è l'amore Maria nella lettera nei romani dice che tutti hanno peccati e sono privi della gloria di dio quindi io credo che uno deve prima pentirsi e cercare il vero amore cioè rivolgersi a Cristo eh solo grazie a lui diciamo incominciamo a capire diciamo questo sentimento profondo diciamo qualche altra cosa dell'amore l'amore è un campanello che suona l'amore è una sensazione l'amore è quel campanello che i uomani dicono che se non hanno sentito non è amore e questo è l'amore oppure provo a dare una definizione non è un impegno sentimentale nello stesso tempo un impegno razionale e contemporaneamente è un eh volersi ehm interessare degli affari di un altro spontaneamente che ne pensate l'amore è anche interessarsi dei bisogni dei problemi degli altri prima dei propri problemi e dei propri interessi dei propri bisogni posso la Maria ecco per esempio ehm per non per definirlo però per dire il vero amore ecco è come se tu sei cioè che tu dai tutto a tutti senza chiedere niente in cambio però eh pensavo pure un'altra cosa che è comunque il signore che mette amore nel proprio nel cuore delle persone sì e questo è chiaro abbiamo detto che Dio è amore però per per imitarlo per mettere in pratica quest'amore bisogna analizzarlo e vedere com'è l'amore altrimenti sappiamo solo che Dio è amore e ce lo mette dentro il cuore però poi non sappiamo come metterlo in pratica per questo stasera questa chiacchierata perché bisogna che noi lo mettiamo in pratica ecco se io ho bisogno e un fratello ha bisogno va bene ed io mi interesso prima del bisogno suo magari dimenticandomi dei miei bisogni questo è amore è vero no ecco sentiamo qualche altra definizione ma io volevo sentire un po' coi giovani quando pensano che l'amore sia il colpo di fulmino il campanellino la campana come allora la maria io non ti so parlare di definizione però credo che l'amore sia impegno va ricercato va catturato va fatto crescere e poi te ne accorgi non è che tu pensi di metterlo in pratica perché a me è capitato che alcune settimane fa da qualche parente di mio marito così all'improvviso sono stata trattata come spazzatura proprio spazzatura però in quel momento mentre venivo trattata così io sorridevo mi medesimavo nei suoi panni e pregavo quando sono andata a casa io continuavo a pregare per mia cognata c'è lo signore non so da che cosa proviene tutto questo ma falle capire che il suo parlare è stato sbagliato tanto che le mie figlie sono rimaste meravigliate ma come mamma non scatta nemmeno a dire guarda ma come ti permette niente io pensavo solo poverina e pregavo per lei e quindi passato qualche settimana mia cognata sai io a volte faccio degli scatti e all'interno di me stessa io mi sento gioiosa ma no perché lei mi abbia detto questo perché lei adesso si sente meglio sta meglio non è arrabbiata anche se non so emotivo però mi fa sta bene sto bene perché lei sta bene così per esempio se ho qualche offesa da qualcuno non mi importa di quello che mi dice in quel momento io mi medesimo in quella persona di che forse si può trovare così si può sentire così come per esempio magari da un po di tempo sono stata tolto anche il saluto da qualche persona e mi sono resa conto che poverina forse il mio stato di gravidanza rende lei fosse come un po di gelosia io prego per l'altra persona ma non io penso che questo sia amore il sì amore tu hai esordito bene dicendo l'amore è impegno impegno e costruirlo e farlo crescere allora giustificare una persona che ti ha fatto un torto volerla a tutti i costi giustificare per trovare in questa persona una giustifica o qualche cosa di buono per continuare ad amarla queste amore che poi ti accorgi che tutto svanisce nel nulla e se tu avessi attaccato quella persona non sarebbe mai finire se invece tu ricerchi la giustifica e cerchi di trovare qualcosa di buono già giustificandola significa volerla a tutti i costi volere bene e questo è impegno e come dice gesù impegnate amate amate i vostri nemici amati i vostri mariti mariti amate le vostre mogli quindi è un comandamento sentiamo i giovani ancora l'amore significa anche evangelizzare perché nella evangelizzazione mostriamo di amare il nostro fratello e mostrando di amare il nostro fratello di conseguenza mostriamo di amare dio vi trovate sentiamo ancora e amore se uno pensa ai propri affari e tutto quanto di stare bene quanto poi dall'altra parte c'è un fratello una sorella che sta proprio con l'acqua alla gola non è amore ma nella misura in cui si può cercare di alleviare le sofferenze altrui e mettere un attimo da parte noi infatti ho trovato questa definizione amare non vuol dire impossessarsi di un altro per arricchire se stesso bensì donarsi a un altro per arricchirlo e poi ancora chi ama ha un grande dono da custodire e quando amiamo assai il signore il resto viene da sé bene amare significa anche questo amare follemente dio e se si ama follemente dio qual è la conseguenza che riusciamo ad amare ogni uomo vi trovate sentiamo qualche altra cosa io stavo facendo una breve riflessione cioè immaginavo questo innanzitutto dicevo guarda com'è bella tingere direttamente alla fonda guarda com'è bella acquisire tanta saggezza da questi ragionamenti e com'è bello poi vederti partire da lontana per arrivare all'obiettivo e in effetti io non è che lo immagino sono certe che sei perché ti ho visto partire da molto lontana per arrivare a un qualche cosa è la cosa alla quale tu vuoi arrivare fermo restante che ormai tutti quanti abbiamo capito che l'amore è la capacità di mettere un pochettino da parte se stesse e quindi condividersi con gli altri senza chiedere niente in cambio in effetti no non non è un sacrificio l'amore non è assolutamente un sacrificio è una condivisione un condividere le gioie le ricchezze la capacità di sostenere di soccorrere di aiutare di fortificare di essere aiutato dagli altri questo è amore quindi non è assolutamente un sacrificio ma è una capacità è una predisposizione è una sensibilità voler condividere con gli altri tutta questa ricchezza che stiamo ricevendo e che abbiamo ricevuto attraverso l'ammaestramento dalla 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 danna maria ma dicevo in effetti che cosa vuole stasera il signore che cosa vuole anna maria stasera con questo discorso dell'amore il discorso è quello di dire a michele visto che tu michele hai capito che cosa significa l'amore hai capito che cosa ha fatto gesù come ce l'ha dimostrato quest'amore proprio venendo qua dimenticando se stesse mettendo da parte la sua gloria è venuto e se l'ha fatta con le prostitute aiutate i lebrosi aiutati gli estorsori e matteo che l'evangelista era un estorsore era un delinquente a suo tempo cioè era uno che pigliava le tangenti dal popolo di israele pagava quello che doveva pagare ai romani e la restante somma se la metteva in tasca quindi per darvi un'idea gesù con chi se l'ha fatta per dire quanto è grande l'amore di questo e se l'abbiamo capito fino in fondo quanto è grande questo questo amore la domanda io penso di anna maria e l'intendimento di anna maria questa sera qual è è quella di far suscitare nel cuore di michele questo ragionamento di dire se l'hai capito quest'amore ha incominciato ad esaminare te stessa ha incominciato ad esaminare il tuo stile di vita cioè il tuo quotidiano il tuo essere cristiano è conforme a quel altrimenti sono soltanto parole dire che noi amiamo gioiamo con i fratelli piangiamo con i fratelli li soccorriamo li sosteniamo possono restare solo delle parole ma se invece io esamino la mia giornata alla luce di quelle che è la parola e alla luce del mio vivere quotidiano cioè se veramente sono stato capace di capire le necessità del fratello se veramente sono stato capace di intervenire nelle necessità nelle sofferenze del fratello allora ecco che sto sulla strada buona ma se questo esame non lo faccio proprio vuol dire che c'è bisogno che il signore chiami anna maria faccio suonare la campana affinché ognuno di noi incominciato ad esaminare se stesse per fare questo esame per incominciare a capire se vogliamo fare veramente la volontà di dio oppure se sono soltanto chiacchiere se sono solo parole l'amore potrebbe essere un concetto filosofico potrebbe essere un'idea da romanzo potrebbe essere si potrebbero spendere fiumi di parole sull'amore in realtà l'amore è razionalità del sentimento è un fatto concreto è un fatto quotidiano che razzi di cristiani saremmo se non fossimo capaci di esaminare noi prima alla luce di quelle che dice la parola e poi guardare e portare agli altri quello che dice la parola sentiamo invece qualche giovane che aveva un'idea diversa di quello che era l'amore cioè se non suona il campanello non è amore perché l'amore non deve essere questo non è questo il campanello che suona sentiamo dietro 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 lì ci vedo tanti giovani raffaele perché l'amore non deve essere un campanello che suona un essere coinvolto sensualmente e così via all'inizio pensavo che l'amore fosse un infatuazione oppure un colpo di fulmine oppure vedere una ragazza e cioè imporre la mia diciamo così la mia modo di pensare modo di vedere però nel tempo ho capito che non è questo l'amore perché cioè nella parola dio ci dice sento amore dio dio ci ha amato per per primi quindi non conosciamo noi l'amore dio che ci ha amati e nello stesso tempo nel momento in cui ci avviciniamo a dio riusciamo a capire l'amore vero e proprio quindi c'è ecco il l'amore come dice gesù è dare la propria vita per il fratello però per arrivare a questo c'è bisogno di un lavoro ben solido ben fortificato e allora c'è riuscendo a inserirci in questi concetti c'è allora incominciavo a capire ma io non ho capito niente dell'amore giustamente ognuno di noi si fa l'esame di coscienza e ci sentiamo sempre più peccatori e a questo punto ecco gesù nella parola dice esamina dobbiamo esaminarci e scopriamo che dentro di noi ci sono delle cose che non vanno e appunto dalla generazione dall'eredità dal peccato tutta una serie di cose ci fanno capire il nostro egoismo il nostro modo di vedere il nostro modo di fare che era non conforme alla parola di dio allora ognuno di noi ha uno schema che ecco come giustamente delle volte hai spiegato dei valori interiori acquisiti dall'eredità da una generazione poi confrontandoli con quelle del signore non sono adeguati e alla fine c'è scopri che c'è ognuno di noi nella piena libertà questa è una cosa grande che il signore ci dà e la piena libertà di scegliere di capire le cose senza costrizione senza imposizione c'è uno fa una scelta di seguire dio e anche poi conoscendo l'altra partner c'è l'altra ragazza ma giustamente nella piena libertà non bisogna costringere o imporre delle cose specialmente nell'amore e allora tutto questo c'è un lavoro che graduatamente non ci sto seguendo più cioè dico alla fine del discorso no c'è un lavoro che se non si si arriva al convertiment non c'è più in modo di pensare umano ma c'è un modo spirituale per capire le cose ma noi abbiamo per scontato che siamo delle persone convertite passi un po con il microfono presso perché carmela carmela perché l'amore sensuale che prende i sensi non è amore secondo te l'amore va costruito l'amore va costruito come bene come come tu mi dicesti quindi è un impegno sì un impegno un impegno giornaliero che va costruito giorno per giorno desiderio di dare e di ricevere ma perché non deve essere un fatto sensuale un fatto che prende solo la mente e ti sconvolge poi va svanito perché poi svanisce e non ci sta e quindi si spiega perché molte persone prendendo a esempio la coppia per molte persone si innamorano di gente che delinquente di gente violenta di persone che non sono affatto delle persone per bene proprio perché ormai non capiscono più nulla non vengono presa nel dal sensuale da quello che è tutt'altro che che apparenza che amore va bene se c'è qualche altra definizione altrimenti concludiamo qua la prossima volta facciamo altri frutti dello spirito la gioia l'amitezza va bene facciamo così visto che ce ne sono tanti altri di frutti dello spirito ne scegliamo un paio e commentiamo sopra ognuno commenta su quello che gli piace l'amitezza la gioia dominio di sé questi sono i frutti dello spirito va bene grazie a gesù va bene ci possiamo sedere ci facciamo un po guidare dal signore per la catechesi diamo la parola all'apocalisse questa sera facciamo la chiesa di sardi all'angelo della chiesa di sardi scrivi è sempre gesù che parla a giovanni così parla colui che possiede i sette spiriti di dio e le sette stelle conosco le tue opere ti si crede vivo e invece sei morto svegliati e rinvigorisci rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire perché non ho trovato le opere perfette davanti al mio dio ricorda dunque come hai accolto la parola osservala e radvediti perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te tuttavia e a sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti essi mi scorteranno in vesti bianche perché ne sono degni il vincitore sarà dunque vestito di vesti bianche e non cancellerò il suo nome del libro della vita ma lo riconoscerò davanti al padre mio e davanti ai suoi angeli chi ha orecchie ascolti che lo spirito dice alle chiese parola del signore allora la chiesa di sardi si trova a 50 chilometri da tiatira dalla chiesa di tiatira sardi in ebraico significa residuo o scampato già dal dal significato della parola si vede tutto un programma già comprendiamo che cosa è successo in questa chiesa è l'antica capitale della lidia e qui si professa il culto a cibele grande madre di tutti gli dei madre della fecondità e della fertilità dea della fecondità e in suo onore si praticavano culti orgiastrici e quindi anche la città di sardi andava avanti in questa maniera gli abitanti di sardi andavano avanti facendo orge comportandosi in modo lussurioso e avevano un comportamento un comportamento licenzioso quindi immaginate era la babilonia un'altra sodoma un'altra gomorra sardi a quell'epoca quando giovanni scrive era sotto il dominio di romani ed era una cittadina che si trovava su un alto piano circondata da fiumi e da lontano sembrava maestosa sembrava una cittadina inespugnabile impenetrabile quando ci si avvicinava a questa città poi ci si rendeva conto che non era vero che era inespugnabile impenetrabile e quindi era tutto apparenza e niente fatti e anche gli abitanti mostravano questo questa caratteristica cioè tutto esteriore e niente interiore tutto forma il niente contenuto che significa tutto questo andiamolo a vedere lì a sardi c'era una chiesa locale e in questa chiesa locale si rispecchiava appunto questa questa cosa anche la chiesa mostrava di essere tutto fumo in interrusto sardi abbiamo detto che significa residuo e significa scampato quindi già dal nome dal significato del nome noi comprendiamo il significato profetico della lettera che significa andiamo a vedere in dettaglio che cosa vuole dire la parola di dio il signore abbiamo visto abbiamo letto che si rivolge a questa chiesa di sardi e quindi se si rivolge parla ancora questa chiesa vuol dire che si poteva recuperare ancora altrimenti il signore avrebbe fatto silenzio e non avrebbe parlato no quindi il signore usa ancora misericordia questa chiesa e ma si rivolge al residuo agli scampati ecco il significato profetico si rivolge non a tutta la chiesa ma a coloro che non avevano macchiato le loro vesti a coloro che non si erano contaminati a coloro che era il piccolo greggio ad alcuni non a tutti ma questa è una grande tristezza abbiamo visto finora che gesù quando si rivolge alle chiese non si rivolge alla chiesa in toto ma si rivolge solo a quelli che hanno orecchie quelli che comprendono quelli che sono sinceri quelli che non si sono macchiati di nessun peccato che cosa abbiamo letto nel primo versetto che gli dice io sono colui che ha i sette spiriti e le sette stelle che significa che lo spirito santo è diviso in sette spiriti che significa dal momento che sette un numero perfetto è un numero completo la pienezza traspare la la completezza in questo questo numero come significato simbolico gesù vuole dire che il suo spirito non è misurato non ha una misura di spirito santo ma lui è completo nel spirito santo è completo nella bontà nella misericordia in lui c'è la completezza quindi il ricco completo di ogni cosa e vuole dire anche dal momento che si presenta io sono colui che posso ogni cosa sono colui che abbonda di ogni cosa è una presentazione per cui io posso dirti ogni cosa posso giudicare il mio giudizio è completo il mio giudizio è giusto questo vuol dire quando si presenta in questa maniera allora le sue parole sono solenne e dice anche questo nel versetto 1 io conosco le tue opere tu hai fama di vivere ma sei morta versetto 1 conosco le tue opere tu sei una chiesa che ha fama di essere viva ma sei morta che significa una chiesa che apparentemente sembra viva ma che è morta sono parole dure parole dure guardate che escono dalla bocca non di un uomo qualunque perché se uno dicesse tu sembri vive ma sei morto fosse una persona qualunque uno non ci farebbe caso non lo prenderebbe in considerazione è vero e non lo dice neanche un giudice di questa terra già la cosa sarebbe meglio se un giudice ti dicesse in questa maniera ti giudicasse in questa maniera qui è il giudice supremo il re dei re il giusto giudice a parlare e quindi questa chiesa avrebbe dovuto mettersi sull'attente perché parlava colui che non sbagliava mai tu hai fama di essere viva ma sei morta cioè essi avevano un ortodossia cioè tutto ciò che imparavano era biblico ma restava solo scrittura restava solo teoria essi non mettevano in pratica alla parola di dio la loro vita non era coerente non erano obbedienti per cui avevano una vita morta le loro opere erano morte la loro fede non era una fede vivente era una fede morta e quindi non c'era in loro una un comportamento una potenza una coerenza e quindi erano erano morti e questo vuole dire il signore vi era sardi come abbiamo visto una contraddizione allora con la chiesa di tiatiri ve la ricordate la chiesa di tiatiri che cosa c'era di brutto che cosa c'era che il signore dava fastidio e rimproverava che essi seguivano quelle che erano i consigli di quella falsa profetessa che era iezabel che li seduceva e quindi immetteva in loro seno quello che erano orge prostituzione idolatria e chi più ne ha più ne metta e non c'è anche un contrasto con la chiesa di pergamo che c'era pergamo ve lo ricordate c'era alcuni che seguivano la dottrina dei nicolaiti i quali erano una setta e altri seguivano la dottrina di balamma che era un indovino nella chiesa di sardi non c'era tutto questo ma c'era la dottrina ortodossa essi leggevano la parola di dio ma non la mettevano in pratica era dunque una chiesa morta tuttavia come tutte le chiese possedeva un germe vitale possedeva un elemento di benedizione o alcuni elementi di benedizione cioè persone che facevano la volontà di dio che non si erano contaminati persone che erano sincere che erano obbedienti allora il signore è sorta nella chiesa a sforzarsi di non far morire quello che restava vivo di svegliarsi di aprire gli occhi e di vigilare ricorda dunque ascolta ricorda di ciò che hai ricevuto cioè la parola di vita la parola di dio e ravvediti ricordati e poi ravvediti osservala questa parola mettila in pratica questo significa poniamo mente poniamo mente perché quando il signore parla non ce l'ha solo con le chiese di questi tempi ce l'ha con la chiesa attuale ce l'ha con la chiesa locale ogni chiesa locale ce l'ha con noi individualmente perché ognuno di noi è la chiesa una domanda che faccio io per voi dopo tutte queste rimproveri dopo che il signore ha detto ricordati la parola che hai ricevuto un tempo ravvediti mettila in pratica osservala cosa ne è stato della chiesa ma poi si sono ravveduti hanno sentito quante volte il signore parla a noi ci siamo ravveduti questa è una domanda che dobbiamo fare a ognuno di noi abbiamo sentito oppure il signore non ce l'aveva con noi ce l'aveva guanna maria ce l'ha sempre guanna maria non ce l'ha con me attenzione anche la chiesa di sardi faceva in questa maniera non si era veduto affatto la chiesa di sardi e sappiamo si sa dalla storia che ha mantenuto gli scritti e gli scritti non sono la vita la vita è mettere in pratica il signore dice non siate solo uditori ma anche facitori della parola di dio a che serve leggere a che serve guardare solo e sentire quando poi la nostra vita è totalmente opposta a quello che abbiamo letto e non abbiamo messo niente in pratica bisogna sforzarsi avere la capacità di mettere in pratica e lì penso che molti di noi difettiamo io difetto perché non so mettere in pratica la parola di dio e quando mi trovo di fronte all'imbroglioncello e all'imbroglio io devo imitare l'imbroglioncello e dove fa l'imbroglio quando mi trovo a dover fare come il mondo è diventato per noi talmente facile talmente una cosa normale che quasi fare il contrario diventa normale e ci caschiamo ci caschiamo tutti o molti io spero che rimane il residuo il piccolo gregge quelli che hanno gli orecchi gloria al signore allora a sardi molti sono gli studiosi delle sacre scritture e io penso che in tutto il mondo molti sono gli studiosi delle sacre scritture che però studiano le sacre scritture ma non credono che quella è parola di dio né gli danno autorità né si importano della parola di dio né credono nella divinità di gesù cristo né credono al sacrificio che gesù ha fatto sulla croce né alla risurrezione né al suo ritorno né al giudizio che lui emetterà e perché se si credesse al giudizio e allora non si scriverebbe non si studierebbe solo teoricamente la parola di dio ma si penserebbe di farle opere di mettere in pratica allora tu hai fama di essere viva ma sei morta e nel salmo 15 leggiamo chiaramente che che vuole dire la parola di dio avete fama di vivere dite di essere rimasti attaccati alla bibbia tutta divinamente ispirata inerrante autorevole ma dov'è la vostra vita la vostra pietà l'ubbidienza e la coerenza gloria al signore poniamo mente non ho trovato in te le opere perfette ti sei praticamente addormentata Gesù sta dicendo che tu ti sei addormentata non hai perseverato sei rimasta a metà sei rimasta indietro facciamo qualche esempio quali sono quei cristiani che possono avere delle opere non perfette o quei cristiani che cristiani che hanno ascoltato la parola di dio hanno avuto magari anche un sano insegnamento ma poi si sono fermati là hanno pensato che bastava hanno pensato magari è venuto alla presunzione hanno pensato di poter andare avanti da soli che bastava ciò che avevano appreso e che potevano andare avanti così altri cristiani invece magari hanno appreso la sana dottrina sono hanno continuato hanno perseverato per un certo tempo hanno anche considerato Gesù come salvatore hanno anche ricevuto lo spirito santo ma poi poi si sono fermati hanno pensato che forse bastava la oppure hanno pensato di essere abbastanza cresciuti adesso per poter fermarsi tanto hanno ricevuto lo spirito santo che bisogna andare avanti che bisogna scavare più non non c'è altro e questi cristiani non hanno considerato che Gesù non solo il salvatore ma anche il signore il signore della vita della nostra vita e che significa essere il signore della nostra vita vediamo se mi sono fatta capire che significa che per esempio io considero Gesù solo come il mio salvatore ma non il mio signore cioè che lui mi perdona i peccati ma che poi nella mia vita io faccio a modo mio e dico tu non sei il signore mio sono io il signore il re il padrone di me stesso e se Gesù non è il signore della nostra vita noi sapete che facciamo lo mettiamo fuori in disparte magari lo facciamo anche entrare in questo tempio che siamo noi lo lasciamo all'ingresso e lì non può comandare la nostra vita per cui il signore non può liberare il nostro cuore perché non è il signore non è il padrone non può liberare la nostra mente non può liberare il nostro spirito egli non ci può guarire non ci può rinnovare non ci può vivificare amen e quindi noi piano piano ci spegniamo e moriamo come un tizzone quando è che il tizzone non si spegne ed è sempre bello acceso con la fiamma forte forte quando resta attaccato a Gesù quando sta nel fuoco nel braciere ricordate i bracieri? prima si usavano i bracieri no? e quindi mi ricordo che spesso un po' di tizzone usciva fuori quando usciva fuori era ancora con la fiamma dopodiché caduto a terra piano 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 si spegneva e diventava una carbonella è vero? è così siamo noi lontani da Gesù lontani dalla vita noi pian piano pian piano pian piano ci spegniamo e moriamo ecco la chiesa di Sardi si era allontanato dalla fonte della vita lo metteva in pratica non amava Dio era una chiesa morta e Gesù parla duramente ma dopo aver parlato duramente che cosa fa? consiglia ancora e indica la via la strada perché tu ti possa ravvedere ti possa riprendere e continuare ancora la corsa e quindi ravvediti sii vigilante questo è il consiglio svegliati non dormire sii vigile stai sveglio stai per morire stai con gli occhi aperti non essere superficiale considera che io non sono solo il salvatore io sono il signore il signore dei signori e diremo l'alfa e l'omega il principio e la fine io sono Dio sono il tuo Dio che può ogni cosa ti può vivificare gloria al signore egli ci può vivificare e noi l'abbiamo sperimentato eh gloria al signore che però non diventiamo orgogliosi e non ci fermiamo ma scaviamo scaviamo saliamo saliamo fino a raggiungere la vetta mai fermarsi a metà ma dobbiamo pensare che c'è sempre qualcosa che il signore ci deve dire ci deve far scoprire e quindi non fermarsi non morire non perdere il primo amore ma essere sempre entusiasti di Gesù e della sua parola alleluia grazie Gesù allora allora un attento esame ci fa capire ci fa vedere che tutti questi esempi tutte queste lettere tutti questi messaggi rivolti alle chiese sono attuali sono attuali o no? sono attuali è vero noi praticamente ci mettiamo in discussione ricordandoci quello che abbiamo letto o leggendo ma magari nel momento che leggiamo ci mettiamo in discussione no? e magari ci mettiamo in discussione tutti quanti e vediamo che è come uno specchio la parola no? è come se in questo specchio noi ci specchiamo e ci vediamo esattamente come siamo e come siamo? siamo mancanti guardate io mi trovo che sono sempre mancante non arrivo mai gloria al Signore questa è la parola di Dio e abbiamo constatato anche un'altra cosa che Gesù è amore che ama le sue chiese ma che purtroppo parla a una minoranza parla a quei pochi quel residuo quelli che non hanno contaminato le loro vesti coloro che sono riuniti nel suo nome che non si adeguano alla mentalità del mondo avete mai sentito eh ma tu sei arretrato tu pensi ancora a queste cose adeguati siamo nel 2003 e queste sono cose di un tempo e poi non si adeguano ai desideri del mondo quel mondo però senza Dio e poi che sono permissivi che tollerano il peccato che tutto fa brodo e abbiamo visto che all'inizio ci scandalizzavamo quando sentivamo alcune cose poi pian piano ci siamo abituati al peccato e troviamo una giustifica per tutto e per tutti siamo diventati insensibili e del peccato lo facciamo passare facciamo passare tutti tutto e guardate più appresso succederanno cose più gravi e all'inizio magari sballottiamo un poco ma poi ci abituiamo anche a quello e diventerà una Babilonia la parola di Dio dice che verranno tempi duri dove non c'è più amore tra i fratelli che non ci comprendiamo più verranno tempi terribili poi verrà l'anticristo eccetera eccetera ma parliamo di altre cose ora abbiamo detto che il Signore parla a residuo a quelli che non si sono contaminati le veste perché quelli che sono più i più sono quelli che invece tollerano sono quelli che invece fanno ogni sorta di male sono quelli che amano il potere e sono quelli che dicono più politica più mondanità più modernità al passo con i tempi ci dobbiamo modernizzare la Chiesa si deve modernizzare e Gesù è un poco antico non ha tenuto presente che i tempi campiano e che quindi ci dobbiamo modernizzare e per questi più dov'è il Signore non c'è il Signore c'è Mammone e Mammone mette queste cose nella mente sappiamo che il campo di battaglia è la mente allora Gesù dice attenti perché a Costoro io verrò per Costoro come un ladro di notte quando meno ve l'aspettate io verrò e allora in quel giorno sarò costretto a giudicare perché essi non hanno capito il tempo della grazia e ci ricordiamo di Gesù quando va a Gerusalemme e dice quelle cose orrende non vede Gerusalemme vede dietro la gente vede dentro il cuore delle persone e dice queste testuali parole se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi e giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno da ogni parte abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno pietra su pietra perché non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata ragazzi mettiamocela tutta perché il Signore potrebbe dire tu non hai colto la chance non hai capito quando io ti ho fatto grazia e ti sei allontanato e sei morto e sei spento e quindi la condanna e la condanna è sempre per la nostra ribellione per il nostro rifiuto la nostra preghiera deve essere rivolta a Gesù in questo modo Signore suscita sempre uomini e donne ripieni di Spirito Santo che possano gridare di stare attenti alle degenerazioni gridare che Gesù è il Signore che la parola di Dio va messa in pratica che dobbiamo fare la volontà di Dio possono gridare che bisogna andare avanti per fede che Gesù è il Signore che Gesù è il nostro Salvatore bisogna gridarlo senza nessuna battuta di arresto senza tregua senza firmarsi mai vigilare affinché non entri a far parte del nostro contesto gente raccogliticcia che significa gente raccogliticcia mi piace molto questo termine perché rende perfettamente gente della peggiore specie che si infiltra e che porta esperienze brutte e che ci contamina gloria al Signore tu hai fama di essere viva apparentemente ma sei morta e in Gala ti leggiamo siete voi insensati dopo aver cominciato con lo spirito volete ora giungere alla perfezione della carne vogliamo giungere alla perfezione della carne anche noi facciamoci questa domanda dopo aver incominciato bene con lo spirito perché abbiamo incominciato bene con lo spirito no però se non stiamo allerta poi perfezioniamo la carne non lo spirito ricordati dice il Signore ricordati non di dimenticare e ravvediti altrimenti altrimenti e qui la minaccia ti metterò a parte dice la parola combatterò contro di te ti colpirò con la prova versetto 16 2 verrò come un ladro ti spoglierò ti priverò delle benedizioni ovviamente il Signore non ce l'ha con tutti ma ce l'ha con chi deve essere punito perché il Signore conosce chi deve essere punito e chi non deve essere punito e non deve essere punito chi non si è contagiato non deve essere punito quello che è scampato il residuo ecco il significato della parola sardi quel piccolo greggio quel piccolo numero coloro che il Signore conosce e che vestirà di veste bianche coloro che non saranno cancellati dal libro della vita tanto tempo fa ai tempi degli apostoli in ogni città c'era un registro su questo registro venivano registrati tutti i cittadini e questo si chiamava libro della vita questi cittadini venivano cancellati solo in un caso venivano cancellati dal libro della vita solo se commettevano qualche crimine per analogia diciamo che in cielo c'è un altro libro della vita il libro della vita divina dove ci sono scritti i nomi di tutti gli uomini e questo sta a significare che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati perché c'è il nome di tutti purtroppo la promessa che sarà cancellato il nome di qualcuno solo chi non crede e saranno invece lasciati i nomi di tutti coloro che hanno fatto la volontà di Dio tutti coloro che vincono e sono vestiti di veste bianche in primo Timotio leggiamo qualcosa di molto significativo e concludiamo questa sera questo studio questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivano alla conoscenza della verità e nell'Apocalisse 20 leggiamo poi vedi un grande tronobbiate colui che sedeva su di esso dalla sua presenza erano scomparsi la terra senza lasciar traccia di sé poi vedi morti grandi e piccoli ritti davanti al trono e furono aperti libri e fu aperto anche un altro libro quello della vita e i morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri ciascuno secondo le sue opere ora la domanda che ci dobbiamo porre che cristiani siamo? Siamo dei cristiani vivi o dei cristiani morti? se siamo dei cristiani morti e allora risvegliamoci vediamo riprendiamo il cammino perduto amen tutto questo e anche per me e per te alleluia gloria al Signore ci alziamo e facciamo la preghiera spirituale ricordandoci alcune parole che abbiamo citato dalla parola di Dio mi rimasta impressa la parola quel versetto che dice io verrò come un ladro come un ladro di notte finché andiamo avanti senza che nessuno tocca quel tasto nessuno ci fa notare l'errore pensiamo che tutto è a posto ma poi quando un attento esame andiamo a leggere la parola di Dio e vediamo effettivamente ci specchiamo dentro veramente vediamo tutta la sporcizia che ancora abbiamo dentro bisogna che noi rapidamente chiediamo allo Spirito Santo di pulirci bisogna che rapidamente apriamo la porta del nostro cuore e facciamo entrare lo Spirito Santo e lo Spirito Santo gli diamo il permesso di viaggiare in questo tempio dalla testa ai piedi ovunque qualunque organo tocca diciamogli purifica libera sei tu sei tu il Signore della mia mente sei tu il Signore del mio cuore il Signore della mia anima perché non voglio che tu vieni quando io meno me l'aspetto come un ladro e mi trovi mancante mi trovi senza fede mi trovi morto Signore io voglio vivere perché questa vita potrebbe finire per me domani ed io mi troverò davanti a te avrò davanti a me non un padre buono ma un giudice severo io voglio trovare un padre buono non un giudice che mi dice hai sbagliato il tuo nome non è scritto nel libro della vita io voglio che questo mio nome Gesù non sia mai cancellato e ce la metterò tutta perché non venga cancellato io studierò e rettificherò tutte le cose sbagliate della mia vita e sarò fermo cercando di non sbagliare in niente dammi la forza se di fronte a delle cose a delle situazioni io non riesco ad uscirmene signore aiutami ad uscirmene invece non permettere che io faccio come il mondo non permettere che io considero normale ciò che è anormale capovolgo la situazione considerando il male bene il bene male dammi una giusta coscienza e fa che io sia in grado di discernere il male permettimi di non predicare bene e razzolare male perché è dalla mia testimonianza e dal mio comportamento che porterò anime a te darò tanto frutto signore io non credo che questa mia richiesta sia una richiesta assurda né una richiesta impossibile né una richiesta carnale ma è una richiesta fatta con tutti i canoni signore desidero la forza Gesù di condurmi nella vita rettamente saggiamente giustamente non non riccamente con poteri non in modo moderno in modo sconsiderato signore non mi interessa non mi interessano queste cose fa che io sia un elemento di contrasto e che provo gioia ad essere contrastante all'altro agli altri non importa se gli altri sono contro di me mi trovano diverso ma sono diverso per te sono un elemento di contrasto perché io cerco il bene è chiaro che il male è contro di me signore questa è questa è la mia richiesta esaudiscimi dei flef days e allora quando dormirò so che tu veglierai su di me e quando mi comporterò così so che se tu arrivi mi troverai pronto con la cintura ai fianchi con le scarpe con l'elmo con la spada pronto con la fede e cenerai con me signore e starai con me e mi dirai bravo e buono servitore voglio stare con te e cenare con te e non mi importerà quando tu arrivi di notte di giorno in qualunque momento io sarò pronto sei tu pronto sei tu pronto Dave Weiss sono io pronto domandatelo e adesso chiudi gli occhi domandati se sei pronto o manca ancora qualcosa perché tu sia completo e pronto Dave e di Santos e di Suedis di Santos chiudi gli occhi alza il tuo viso apri le tue braccia arrenditi arrenditi santo Dave fai di foie di slytest di slytest di slytest santo 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 Santo, 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 santo. I tuoi fianchi senti la lampada accesa, non aspettarmi in vano tornerò. Sarò simile a uno sposo del giorno di nozze, improvviso la tua porta aprirò. E beato tu sarai se giungendo a te, nella veglia della notte ti troverò. E presso al tavolo a servirti io passerò, nella fiocca luce allora mi sorriderai. Beato sì perché con te resterò. Dillo presto agli altri che il tempo verrà, quando di sorpresa mi presenterò. E poi simile a coloro che vegliano attenti, nella gioia dell'attesa mi ritroverò. Alza il tuo fisso. Chiudi i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi. Altrimenti vedrai la materia, non lo spirito. Non sentirai la voce di Dio, non potrai mai sentirla perché Dio è spirito. E tu lo sentirai nel tuo spirito se Dio vuole. Se tu sei distratto e tieni gli occhi aperti, non vedrai nulla, non sentirai nulla. Dio è spirito e cerca veri adoratori, coloro che lo adorano in ispirito. E questa è la verità, l'adorazione in ispirito, non alla materia. La materia ci serve per portarci poi allo spirito. Ma adesso è il momento di chiudere gli occhi. E stai all'ascolto. Stai all'ascolto. Può darsi che il Signore ti darà qualche consiglio. Ti dirà fai così e così. Nel migliore dei casi oppure ti dirà io ho qualcosa da rimproverarti. O può darsi che ti dice vai avanti, non temere. Stai facendo bene. Vai avanti, non ti fermare. Non guardare né a destra né a sinistra. Guarda sempre me dritto davanti a te. Ma tutto questo non lo puoi sentire. Se tu ti distrai. Se tu pensi adesso ad altre cose. Se tu hai un cuore pieno di pregiudizi. Se tu stai ragionando con la mente. La mente metti da parte. Non lasciarti adesso confondere. La mente non c'entra in questo momento. C'entra il tuo spirito. La mente è una pietra di inciampo in questo momento. Hai bisogno di sentire attraverso lo spirito. Gloria, i dei iftif, i svincet, trai, ti costanza, le fire. Nella veglia della notte ti troverò Deato, sì perché con te resterò E presso al tavolo a servirti io passerò Nella fiocca luce allora mi sorriderai Deato, sì perché con te resterò Dillo presto agli altri che il tempo verrà Quando di sorpresa mi presenterò E poi simili a coloro che vegliano attenti Nella gioia dell'attesa mi ritroverò In verità, in verità Io ti dico che La vigilia del ritorno arriverà Ma ricorda Anche se il tempo passerà Che beato tu sarai Se giungendo a te Nella veglia della notte ti troverò Beato, sì perché con te resterò Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mentre questo sottofondo musicale Ancora ci accompagna Tutto il resto starà così In comunione col Signore Con le mani alzate Con gli occhi chiusi E il viso alzato Affinché il Signore possa farvi vedere E sentire nello spirito la sua luce La sua voce Santo, 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 Sento, 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 sento. I tuoi fianchi senti la lampada accesa, non aspettarmi in vano tornerò, sarò simile a uno sposo del giorno di nozze, d'improvviso la tua porta aprirò. Pieno piano, saluto, e bellato tu sarai, se giungendo a te, nella veglia della nozze. Toccaci tutti signore. Riempici del tuo spirito, signore, dacci la forza e la potenza, signore. Dacci la corazza completa, lo scudo della fede, dacci la spada, che possiamo metterla in pratica, in tutti i suoi punti, che possiamo essere completi, di nulla mancanti, per avere la corona della vita. Maestro, toccaci signore, toccaci signore. Santo, 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 santo. Ti fai desi, tocca Gesù. Di waitari fai desi, to desi, riempi Gesù, riempi di spirito, signore. Dei fai desi, to desi, tocca Gesù. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Di fai desi, tocca Gesù. Dei 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 fai desi, tocca Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti.